Tartacerca, la piccola Iris, guardate dove è la tartufa, c'è Iris con la testa, ferma Iris, ferma, ferma Iris, guardatelo, e qui ci sono due rarici, non stanno scendendo al sole, siamo in un bel posto, ferma Iris, ferma, guardate, dopo a tirarlo non sarà facile, sono belle radici, sto provando da sotto anche, tarta, forse inizia a liberarsi, tarta, adesso stoppo, ferma, eccolo qua, non riuscite a liberarlo, Iris lo sente,